Oggi parliamo della nuova Chiavenga 1.4 benzina 90 CV allestimento Active. La vettura che vediamo in video prevede di serie ABS, ESP, assistenza partenza in salita, ripartitore elettronico di frenata, sistema di controllo trazione, frenata assistita, airbag per il passeggero disattivabile, quelli laterali e per la testa, cerchi da 15, climatizzatore manuale, alzacristalli elettrici anteriori, computer di bordo, poggiatessa anteriori attivi, poggiatessa per gli occupanti del divano, radio CD MP3 comprese AUX, USB, iPod, retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente, sedile posteriore frazionato, attacchi Isofix, Bluetooth e comandi al volante, fendi nebbia, volante regolabile sia in altezza che in profondità, sensori di parcheggio posteriore, plancia con metal look, servosserso elettrico. Per quanto riguarda l'abitabilità, Chiavenga fa concorrenza a rivali più grandi. Lo spazio per le gambe non manca, neppure per chi sta dietro, e oltretutto lo si può adattare alle diverse esigenze grazie al divano scorrevole. L'abitacolo è luminoso, il posto guida è accogliente e si viaggia comodamente in 5 persone. Ottima la tenuta di strada e la stabilità. Sterzo, cambi e pedali della frezione sono dolci da azionare. Si guida in tutto relax anche nel traffico intenso. I consumi sono ridottissimi. Chia, per quanto riguarda la garanzia, offre ben 7 anni o 150.000 km di copertura. Una bella tranquillità. La monomolume Chiavenga allestimento Active 1.4 benzina a 90 CV è disponibile presso la nostra concessionaria in offerta a 11.490 euro con un risparmio dal prezzo di listino di oltre 4.200 euro. Garantiamo il prezzo più basso d'Italia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.